Un'occasione sicuramente particolarissima, è venuta il Presidente della Repubblica alla Casa Pirandello, cui la Prefettura ha detto anche di tanti partner, fa questa azione di raccordo fra i vari attori. Il 6 luglio verrà il Presidente Mattarella a visitare la Casa Natale. Sì, ovviamente la Prefettura si raccorda in maniera assolutamente sinergica, sintetica, concreta con lo staff del Presidente della Repubblica, il Quirinale che è già venuto, ha fatto dei sopralluoghi, ha già visionato i luoghi, la sicurezza ovviamente, perché gli aspetti della sicurezza sono altrettanto importanti, specie a luce dei fatti internazionali. La stessa Valle dei Templi è uno degli obiettivi cosiddetti, che abbiamo ritenuto in serie come obiettivo sensibile all'interno di queste dinamiche che attraversiamo a livello internazionale. Risottolineo, come ho detto nel mio intervento precedentemente, il Capo dello Stato ha già dato grande attenzione a questa terra e a questa provincia, venendo l'anno scorso, il 3 di giugno a Lampedusa, per la inaugurazione di una particolarissima e bellissima mossa sul senso della fiducia nell'area del Mediterraneo. A distanza di praticamente un anno, un anno e un mese, 6 di luglio, ritorna nella provincia di Agrigento, è una grandissima, grandissima forma di sensibilità, attenzione da parte del Capo dello Stato. L'occasione, il 150esimo Pirandello, è importantissima, va curata nei suoi aspetti complessivi, generali, cerimoniali, non cerimoniali, sicurezza con massima cura, con massima attenzione. È quello che la Prefettura sta cercando di fare e farà fino in fondo, in raccordo anche ovviamente con le forze di pulizia, quello a livello territoriale, questore, comandi provinciali, arma dei caribiani, guardia di finanza, collaborazione ovviamente anche del Comando e della Polizia Municipale, in modo che tutto possa svolgersi in assoluta perfetta organizzazione e grandissima serenità. Il Capo dello Stato, secondo me, è un bel tributo a questo nostro figlio prediletto, il figlio prediletto di questa città che è Luigi Pirandello, nell'anno del 150esimo della nascita. E quindi certamente è una sorta di suggello rispetto alle tante celebrazioni che stanno andando in onda da gennaio di quest'anno e culmineranno il 31 dicembre di quest'anno e che variano, che hanno avuto momenti di approfondimento scientifico come il convegno di Zurigo, come quello di lunedì prossimo all'Università La Sapienza, che hanno tutti i convegni, il patrocino del Comune di Agrigento, ma anche le tante iniziative che indagano Pirandello e il suo rapporto con il cinema, Pirandello e il rapporto con la pittura. Sarà l'occasione in cui alcuni manoscritti inediti verranno esposti a Casa Natale Pirandello per l'occasione. Ed è, mi pare, per la prima volta l'occasione in cui la città con tutti i suoi attori, non solo quelli istituzionali ma anche quelli privati, sono insieme in un progetto unico di celebrazione adeguata di questo Nobel. E quindi mi pare di poter dire che Pirandello stia dando una mano in qualche modo alla città per dare di sé una narrazione diversa.